Attualmente, per quanto noi sappiamo, negli ospedali di Puglia i papà non possono entrare durante il travaglio, quindi non possono assistere alla nascita dei loro figli. Le mamme possono condividere il momento del parto con il partner o con una persona cara. Per avere risposte a queste e ad altre domande, un gruppo di future mamme dell'Associazione Rinascere al Naturale ha deciso di scrivere una lettera all'azienda sanitaria locale e ai direttori dei punti nascita, chiedendo rassicurazioni e una comunicazione chiara e pubblica. Recente è la notizia della riapertura delle strutture sanitarie pubbliche e private alle visite annunciata dal direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Questa notizia fa sperare che non ci siano ulteriori ostacoli alla partecipazione attiva dei papà nel percorso nascita e al contatto precoce e prolungato tra le madri e i loro neonati. Non è però ancora arrivata una risposta ufficiale alla richiesta delle mamme e non è chiaro quali siano le procedure in atto nei reparti di maternità. A distanza di un mese ancora non abbiamo ricevuto alcuna risposta ufficiale. Attualmente, per quanto noi sappiamo, negli ospedali di Puglia i papà non possono entrare durante il travaglio, quindi non possono assistere alla nascita dei loro figli. Ho visto le ultime notizie e abbiamo saputo che si inizia a poter rientrare in visita in alcuni reparti, in alcuni ospedali, quindi speriamo che presto vengano anche ammessi i papà al travaglio e al parto.